Ciao a tutti, oggi andremo ad aprire la lista bomber numero 11 e dentro ci sarà una limited edition e due pacchetti normali. Sulla copertina ci stanno Verisic, Cristalberto, Insigne e Tjanic. Allora, i due pacchetti, la limited, che è, vabbè, la limited edition di Mario Mandzuki. Questa qua è la rivista, vabbè. Andiamo ad aprire i due pacchetti. Speriamo che hanno almeno una blusa. Ciao Pedro. Paloschi. Desciglio. D'Ambrosio. Toloi. Questa qua è la speciale che è la stella di Felipe Anderson. Come il primo pacchetto, trovare una stella non è per niente male. Tra l'altro anche una limited edition. Vittor Ugo. Lucioni. Agi. Kolarov. Murgia. Questa qua è la speciale. Chiellini, idolo. Un'altra. Questa qua è la rivista. Luisa Alberto. Lucas Leiva contro Benazzi. Buffon contro Reina. De Rossi contro Matuidi. Dybala e Icardi. E vabbè, altre sfide. Per l'altro. Milano. I poster sono di Dybala. La squadra della Roma. Perisi. E la squadra della Lazio. Ah. Suso e va. Ovviamente. No, non è finito. Cioè, la squadra della Lazio sta dietro quella della Roma. Tanto, chi attacca una non attacca l'altra. Oh, Montelani. Quadrato Caglie Con. Pellegrini de Rome. Di Francesco Enzali. E il bumper del mese. Ciro Immobile. C'è anche... Eh? Zai Zai Zai. Sono Zai Zai. E qui. Questa qua era la lista Bobber. E... Se... Chi prende i codici di queste figurine per favore lo scrive nei commenti. Ciao. Ciao.